Ed eccoci allo sport, oggi il consiglio della Lega Pro prenderà in considerazione l'ipotesi di uno slittamento del campionato, intanto Catania e Palermo pensano al turno prepasquale, rossa-azzurri in casa con la Viterbese e rosa-nero impegnati a Caserta. Viterbese tra 48 ore, potenza l'11 aprile, per dare una spinta alla sua classifica, il Catania vuole sfruttare al meglio il doppio turno casalingo che il calendario delle riserva nelle ultime 5 giornate in regular season. L'obiettivo è quello di migliorare la posizione nella griglia dei play-off e al tempo stesso affinare i nuovi meccanismi che il tecnico Francesco Baldini sta portando da meno di due settimane. Giorni in cui sono arrivate due vittorie consecutive che hanno ridato fiducia ed entusiasmo ad un gruppo distante 6 punti dal Catanzaro, attualmente quarto, ma a torre del Grifo c'è sempre quella speranza di vedersi restituiti i due punti di penalità. Il doppio turno casalingo può alimentare l'ambizione e allora occorre presentarsi al meglio sabato al Massimino contro i laziali. Baldini dovrebbe avere a disposizione anche Tonucci che si è allenato con il gruppo, mentre svolge ancora differenziato Silvestri che vuole accelerare per anticipare il rientro. Out ancora Volpe che si sta curando con l'obiettivo di essere utile per il finale di stagione di play-off. Il Massimino sarà ancora vuoto, ma i cuori rossazzurri della Curva Sud non smettono di battere. I tifosi hanno dato vita ad un'iniziativa speciale, solidale, regalando uova di Pasqua e sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici ospedalieri. A Palermo invece si pensa alla trasferta di Caserta. Con ottimismo, Filippi può contare finalmente su quasi tutti i giocatori. Corrado, Dodo e Marconi sono recuperati, l'unico indisponibile sarà De Rose e da giocarsi il posto accanto a Luperini sono Oger e Bro. Ma sia il Catania che il Palermo attendono le decisioni di oggi del Consiglio di Lega Pro, che deve discutere l'eventuale distrittamento delle campionate e dei play-off per i tanti rinvii. Interessa soprattutto il Rosanero, che dovrebbero recuperare il 7 aprile la gara col Monopoli ed attendono di conoscere la data di quella contro il Foggia.